Ciao ragazzi, oggi vi voglio parlare di Buono Naturale che è un brand di Novelterre che si trova in provincia di Avellino dove realizza delle box bio e il suo obiettivo è proprio quello di mangiare bene in maniera sostenibile mi ha inviato queste box che voi potete trovare direttamente nel mio shop online su Amazon oppure direttamente sul loro sito allora vi faccio vedere innanzitutto abbiamo queste di qua, box carciofi e pomodori dove abbiamo 3 pezzi di pomodori secchi in olio e 3 pezzi di carciofi in salamoia poi abbiamo la box gustoso dove contiene 6 pezzi quindi abbiamo 2 pezzi di creme di oliva e nere 2 pezzi di carciofini sott'olio e 2 pezzi di capperi in olio poi abbiamo la box dei legumi dove contiene 2 pezzi di ceci restati 2 pezzi di fagioli borlotti e 2 pezzi di lenticchie al pomodoro e infine abbiamo box al pesto bio dove contiene 3 pezzi di pesto allora le confezioni sono così e veramente in ogni barattolino troviamo 300 grammi di prodotto ideali comunque per realizzare anche un piatto di pasta ma anche per creare degli antipastini per creare anche dei secondi veramente fantastici li potete trovare appunto su amazon sul loro sito che adesso vi taggo qui sotto